Bentornati in diretta, ultima parte di trasmissione, spesso lo facciamo, la dedichiamo anche alle iniziative, agli spettacoli, però sempre a cose che abbiano un senso anche di solidarietà. È il caso di questa iniziativa che realizzerà Musica Controcorrente, concorso nazionale della canzone d'autore Controcorrente TV, di cui parliamo poi magari alla fine, la lasciamo un po' così, lasciamo un po' la suspense ai telespettatori, e che si svolgerà proprio con questo primo evento, il 20 aprile, all'Auditorium Parco della Musica. Si chiama Freedom Party a favore di Amnesty International, facciamo vedere anche una bella locandina e saluto subito Sergio Garroni nell'altro studio. Bentrovato, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno agli spettatori. Dicevo, c'è il logo di Controcorrente TV, questa entità che aleggia per ora soltanto nell'aria e che sta già creando molta curiosità nei telespettatori, però di questo ne parliamo tra un po', tra un attimo. Partiamo da questa locandina, eccolo qua, Freedom Party for Amnesty, insomma una festa per la libertà. Che cos'è Sergio Garroni? Sì, è una bella iniziativa organizzata da una testata romana, Free Music, che si chiama Ubix, ed è un evento a favore della libertà dei popoli del Nord Africa. In questi periodi tutti seguono le vicende del Nord Africa, sappiamo quanto siano dolorose o quanto in questi eventi paghino le popolazioni e paghi il popolo, quindi i meno responsabili di tutto ciò. È un'iniziativa di musica realizzata all'auditorium Parco della Musica, proprio il 20 aprile alle 21, è un invito a tutti di venire, poi tra l'altro si pagherà un biglietto veramente risibile, 12 euro che vanno interamente a favore delle popolazioni, a favore del loro aiuto. Ecco, tutto l'incasso di questo biglietto che già di per sé è risorio per sentire tanta buona musica andrà a favore di Amnesty International. Sì, esattamente, esattamente, e quindi questa è una cosa importante e lodevole. Chiaramente gli artisti che hanno partecipato ovviamente non percepiscono alcun cachet e l'artista che noi come musica controcorrente abbiamo il piacere di ospitare, che spesso e volentieri è un vate della nostra realtà in quanto è il vincitore della prima edizione del concorso, è Carmine Torchia, è un cantautore calabrese. Ecco, Carmine Torchia, dici qualcosa in più, no? Su chi non lo conosce potrà comunque sentirlo anche il 20, insomma, la sera appunto all'auditorio. Carmine Torchia è un cantatore calabrese, appunto ha vinto la prima edizione di musica controcorrente e poi ha fatto il suo percorso, l'abbiamo seguito noi nella sua arte, lui è un architetto, pensate, un architetto si è messo, ha deciso di fare musica, ha detto io voglio fare la musica e ha fatto una serie di cose lodevoli, tra le quali l'ultima ha proposto un brano allo scorso festival di Sanremo, un brano in dialetto molto interessante che parla tra l'altro di una partecipazione sociale dei popoli del sud per una battaglia che è la costante, si fissa, la battaglia contro le mafie, quindi chi più di lui poteva essere il messaggero di una proposta di solidarietà e di pacificazione direi internazionale, non nazionale. Carmine è un artista molto quotato nella sua interezza, poco conosciuto, ma io penso che a breve se ne saprà qualcosa di lui perché merita tutto l'appoggio e tutto l'apprezzamento. Ecco, allora l'associazione tra l'altro, la tua associazione musica controcorrente nel suo statuto prevede proprio questo, cioè far musica in funzione di situazioni e persone che si trovano in difficoltà, quindi la musica ha, lo sappiamo, questo risvolto lo può avere in questo caso vostro, cioè lo ha proprio da statuto. Sì, ma infatti spesso si fa un mix, si intende la musica come rumore, come decibel, no, la musica è sicuramente cultura, è sicuramente un lavoro, ma può essere un bellissimo viatico per risolvere tanti problemi. Ci sono, noi per esempio nel nostro concorso abbiamo ospitato un artista, un paio di edizioni fa, un artista che aveva una gravissima sindrome motoria, la SLA, e per cui non poteva esibirsi, l'unica sua forza di vita era la possibilità di fare musica. E chiaramente siamo disponibili e aperti a tutti coloro che vorranno portare la loro arte, a prescindere dalle loro difficoltà momentanee, ci auguriamo. E qua allora andiamo su Controcorrente TV, che partirà il primo maggio, data importante per tanti motivi, ma secondo noi molto importante anche per la nascita di questo canale, 648 la frequenza sul digitale terrestre, cercatela se fate la risintonizzazione, che ormai la maggior parte di persone hanno fatto, al 648 trovate questo canale. Mi sembra di capire, dico a Sergio Garroni, che da tutto il tuo percorso, dalla tua grande esperienza, nasca proprio questa esigenza di dare uno spazio a chi questo spazio magari lo meriterebbe, a livello anche artistico, ma non ce l'ha. E quindi a chi si rivolgerà questo canale? Infatti questa è una delle mie iniziative, così casuale, per l'incontro con Roma TV, che è stato un incontro importante. Noi abbiamo gli artisti che spesso incontrano delle porte chiuse loro in faccia. E quindi noi vogliamo aprire le porte, vogliamo aprire chiaramente le onde di Roma 1 TV, con Controcorrente TV, e permettere a tutti coloro che amano l'arte, e che vogliono e credono in essa come soluzione della vita, momentanea, collaterale alla loro attività professionale, propongano i loro videoclip, i loro eventi live. Parleremo di musica, non faremo censure, se non quelle ovviamente di livello stilistico, concettuale, per forza. E io ricordo il fatto dell'evento del 1 maggio. Il 1 maggio tutti sanno ci saranno la beatificazione di Papa Giovanni Paolo II. e nella sua lettera Papa Giovanni Paolo II si rivolse proprio agli artisti e li spronò perché portassero fuori le loro capacità artistiche, perché comunque era un bene, era un bene per la società e un bene anche per noi stessi che facciamo arte, ovviamente. Allora, siccome la logica della musica è intesa come logica discografica, quasi sempre è assolutamente commerciale, già si dice gruppi bravi magari però non sono vendibili per certi versi, e allora si punta su altri perché comunque si vuole fare soldi. Credo di poter dire che tu rispetto alla musica, insomma, sei quasi un filantropo, cioè sei uno che ci mette la propria esperienza e che guarda meno a quelle logiche lì e molto ad altro. E questo te lo chiedo come ultima domanda, ma anche per darti l'opportunità di dire a chi ci sta seguendo ora che cosa può, insomma, che spazio troverà e quindi dove si può rivolgere chi già fa musica o è interessato a farsi sentire, a farsi vedere. Ma sulle, praticamente, www.controcorrente.tv sarà il portale del concorso che vedrà la luce il primo di maggio e tutti coloro che vorranno inviare le loro canzoni, i loro videoclip, le loro proposte, le loro tematiche controcorrente, perché essere controcorrente non significa essere necessariamente contro, ma essere alternativi, pensare con la propria testa, noi siamo disponibili, noi ospiteremo tutti e ci auguriamo che proprio Roma 1 TV, che è direi la televisione più importante di Roma dopo i grandi network, abbia la possibilità di ospitare artisti che vengano anche da tutta Italia e anche dal resto del mondo, in quanto noi applicheremo lo streaming video via web, per cui non solo gli abitanti e i cittadini del Lazio che possono intercettare le frequenze 648 del vostro telecanale, mi raccomando 648, ma anche chi collegandosi sulla diretta di Controcorrente TV avrà la possibilità di assistere a tutti gli spettacoli o di farsi riconoscere in tutto il mondo, in tutte le regioni. Cerchiamo di dare un messaggio positivo, propositivo, i network grandi non vi passano, Controcorrente TV vi aspetta, aspetta tutti coloro che amano la propria arte e che di essa fanno un importante veicolo per la propria vita. Benissimo, allora fatemi rivedere un attimo qui la locandina, perché siamo partiti da qua, mercoledì 20 aprile, andate all'auditorium Parco della Musica, sala Teatro Studio, ore 21, 12 euro, tutte devolute ad Amnesty International, artisti importanti con Paolo Belli, Joio Mundi, Chebetta, Areamag, Luca Bussoletti, Carmine Torchi e Marcos Banda. E allora, per chiudere, caro Sergio, insomma noi siamo, credo nel nostro piccolo, controcorrente ogni giorno come controinformazione, perché ci occupiamo dei problemi concreti, insomma dei cittadini, cercando anche di andare oltre le parole della politica, che spesso sono molto sterili e sono propaganda e basta, e quindi andiamo sui problemi. Io sono certo che il vostro percorso sarà fortunato, me lo auguro davvero, e che sarà insomma un percorso che credo ci voglia proprio, in questo momento in Italia, perché sì, tante fiction, tanti reality, più che fiction, reality, cose, però insomma, però dal basso, arriveranno molte voci e molti suoni. Io mi auguro proprio che sia così, Andrea, ti ringrazio personalmente, ringrazio ovviamente Roma Una, o TV che mi ha offerto questa grossa opportunità, nella quale io investo personalmente di viso, come si vede, nel senso che spesso e volentieri non si sa chi c'è dietro la realtà, dietro questa realtà ci sono tanti artisti bravi, io spero di poterli portare a vostra conoscenza, e di rappresentarli degnamente. Evviva, allora abbiamo chiuso alla grande, grazie Sergio ancora, Sergio Garoni, controcorrente TV dal primo maggio, canale 648 del Digitale, poi lo streaming, insomma tante altre possibilità, Dito la Roma 1 per oggi finisce qui, vi aspetto domani alla stessa ora, come sempre, dalle 13.45 circa, cioè dopo il telegiornale, vi lascio se volete alla replica di Foro Romano, sul nono municipio, arrivederci. Grazie.